non so dove è tornato però calmo da morire magari andiamo in ombra poi ormai abbiamo messo bene qua non riesco a stare tanto appoggiato perché prova prima che hai sbagliato sei stato così volevi prendere testo sei qui sei qui se vuoi passare alla stena anche se lui ti tiene anche se lui ti tiene vedi? guarda prendi presa rompi e passa da qui guarda ricordi questa cosa quando io piego continuo a te la gamba continuo a te la spingo vedi? io voglio fare questo guarda questa volevi questa basta ascolta guarda ti vuoi passare piegato e andai vai 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 vedi di qua di qua puoi o prendere così o si sente che ti puoi buttare hop fai quello che vuoi fai quello che vuoi vedi? io ti tengo no ma quando ti puli era così io ero sopra fossa però bene volevo fare questo guarda mi ricordavo di questo movimento questo e poi ti puli gli occhi dentro si ma non hai fatto questo è quello che tu hai pensato no volevo fare non ha funzionato ti perdo non perdi prezi prezi e sempre ti dico prezi diagonale non dimenti guarda guarda una presa hop presa fatta vedi? anche se lo tieni di gamba vedi? io ti do mia gamba guarda io ti do mia gamba vedi? posso tranquillo sentirmi così vedi? ci tengo basta tenere questa presa poi passare passare devi sempre passare figata lui era qui e tu e hai presa e basta ti diceva questa cosa sempre solo perdita di tempo ti vuoi prendere controllo testa o di qua o di qua per non per me chiudi scappo da questa parte controllo vedi? vedi? cosa posso fare di qua giri girarti stringere guarda uno due tre quattro tu sei stato con questa merda così un momento basta fare io ti dimostravo tanti volte questi 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 sono anaconda ciò si fanno guarda ancora una volta guarda tu eri così hai preso e volevi ma in realtà uno due tre quattro basta e tu sei vincitori cintura tua con tua forza capisci? ancora una volta invece di prendere così anche qui hai preso quello là vedi? così si vedi? e tu sei andato qui vedi? sei andato qui 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 e da questa posizione non hai riuscito a suffogare non so come mai qua è una cosa semplicissima poi quando suffochi ora quando suffochi non deve andare così vedi? vedi? spalla a destra spalla a destra no io sono qui ti suffoco senza andare in giro ti voglio suffocarti di più qui se no vado qui mi giro però rimango piegato queste cose guarda ancora una volta io sono qui tu sei stato così